Nei giorni scorsi i tecnici dei lavori pubblici e dell'urbanistica del comune di Fano hanno incontrato gli operatori portuali per elencare i lavori in atto nella zona del porto, quelli conclusi e quelli futuri. Gli interventi terminati riguardano la sistemazione degli scogli lungo la diga forania che circonda il porto per un costo di 108 mila euro, mentre i lavori attualmente in svolgimento riguardano la riqualificazione della pavimentazione nella piccola piazza o banchina nella parte retrostante il punto yacht a fianco dell'ex scimitar, dove poi, in un secondo momento, verranno installate anche alcune sedute e un punto luce. Altri lavori riguardano l'illuminazione di via Nazario Sauro, dove verranno installate nuove luci a LED dal faro della Capitaneria di Porto fino al sottopasso ferroviario. Infine, la sistemazione di alcune parti ammalorate lungo la passeggiata dell'Isippo. Ma la conferenza stampa di oggi è stata l'occasione anche per parlare della situazione del porto, come i fanghi stoccati all'interno dell'area portuale e il dragaggio. Come comune di Fano è 11 anni che abbiamo depositato quei fanghi lì, non li possiamo portare via, li deve portare via l'autorità di sistema del porto che ha sede in Ancona e che ancora non ha finito il secondo progetto che doveva fare, che ci aveva garantito, avrebbe fatto in tempi ragionevolmente brevi, già ce lo garantiva a febbraio 2023 per lo spostamento di questi fanghi, che diventa un problema importante perché cerchiamo di abbellire il porto, cerchiamo di farlo abbellire agli operatori del porto, ma effettivamente abbiamo questi fanghi lì depositati da tanto tempo e ancora soluzione non c'è, quindi l'appello forte affinché l'autorità di porto proceda celermente, non come ha fatto finora, per la predisposizione del progetto e della gara per spostare i fanghi, il cui spazio è stato lasciato all'interno della cassa di colmata del porto di Ancona. Inoltre non solo ci sono i fanghi vecchi, ma ci sono anche i fanghi nuovi che si stanno formando, che spesso non sono neppure tanto puliti e dunque servirà da prima individuare con la regione Marche, l'autorità di porto e anche il CNR, un'area dove poter reimmergere i fanghi puliti che vengono stolti dal porto di Fano e noi ci auguriamo che quest'area venga trovata a largo della zona nord delle Marche, perché altrimenti i costi per portarli verso Civitanova diventano molto più alti di tutti i costi di dragaggio. Secondariamente ci auguriamo che attraverso un accordo di programma, regione, autorità di porto e anche comuni che hanno più esigenze di dragare, si possa individuare una porzione della cassa di colmata che verrà fatta presso il porto di Pesaro affinché possano essere depositate anche lì i fanghi meno puliti del porto di Fano in maniera tale da poter arrivare nel giro di qualche anno al dragaggio a fondo del porto di Fano per raggiungere la quota di 3 metri che è quella di progetto e che è quella che è indispensabile per poter garantire la sicurezza dei natanti.